E' di oggi la notizia di un possibile investimento in Puglia del gruppo Todini Costruzioni che avrebbe raggiunto sinergie con una nota azienda locale, il tutto anche in prospettiva di un utilizzo dei fondi del PNRR. Tra gli obiettivi che la nuova joint venture intenderebbe realizzare figura anche una distesa di pannelli fotovoltaici nell'area di Cerano per la produzione di circa 100 megawatt, il che significa un utilizzo di terreno per circa 150 ettari. Il tutto va ad aggiungersi a un altro megaimpianto fotovoltaico annunciato nella stessa zona da un gruppo norvegese e poi ci sarebbero gli investimenti diretti di Enel sempre nel fotovoltaico e sempre nell'area di Cerano. Si tratta di nuove attività per l'evoluzione di energia rinnovabile che vanno nella direzione auspicata da tutti e cioè dell'eliminazione, dopo una fase di transizione, dell'utilizzo di combustibili fossili. Il problema però è che i campi fotovoltaici producono solo utili a chi li realizza ma nessun ritorno per il territorio, soprattutto dal punto di vista occupazionale. E invece è proprio quello il dramma, visto che Brindisi si appresta a dover fare a meno di almeno 1.500 posti di lavoro per effetto del fine vita della centrale termoelettrica di Cerano. Un fatto gravissimo, soprattutto se si considera che dal governo nazionale non arriva alcun segnale di disponibilità per favorire nuovi investimenti nell'area industriale di Brindisi, così come la stessa Enel non intenderebbe andare oltre i pannelli fotovoltaici. Brindisi invece merita decisamente di più rispetto a distese di specchi che sortiranno un solo effetto, quello di devastare la nostra economia agricola e deturpare un territorio già martoriato nel corso dei decenni in cui Brindisi si è messa al servizio del paese per poi essere sbattuta fuori di casa quando non servirà più. Grazie. 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 Grazie.